Sono tornate nuovamente a sgorgare le fontanelle del sito archeologico delle 100 fontane, in occasione della festa del mare tenutasi il 26 e il 27 settembre a Torre del Greco. In seguito al progetto di recupero, promosso dall'amministrazione comunale, il sito appare oggi sotto una luce diversa, non più luogo abbandonato all'incuria del tempo e all'inciviltà, ma attrazione ricca di storia e memorie. Era da tempo che la comunità cittadina chiedeva un'opera di bonifica e di riqualificazione dell'area, dato che l'ultimo restauro risale al 2006. Oggi è stata ritinteggiata nei suoi colori naturali e le acque che zampillano fuori dalle fontane non sono più sporcate da liquami. La zona, ricca di fascino, però richiede altri interventi volte all'eliminazione delle scritte sui muri adiacenti al monumento e una più generale pulizia del terreno attiguo. Anche il tetto della struttura andrebbe ritinteggiato e alcune scritte sulle pietre antiche sotto le fontane eliminate. Un passo in avanti significativo è un'opportunità che non va sprecata ripetendo gli stessi errori del passato, perché la salvaguardia dei beni culturali richiede un'attenzione costante per valorizzare Torre del Greco e l'intero territorio vesuviano.